Sull'omicidio Materazzo c'è ancora tanto mistero, l'assassino ancora in libertà e anche il fratello, unico indagato, è ancora irreperibile. Unica novità di questi ultimi mesi è la nuova pista che segue la procura di Napoli, quella economica. Ed è questo il motivo che ha spinto gli inquirenti a delegare accertamenti ad hoc anche ai finanzieri del nucleo di polizia tributaria guidati dal colonnello Giovanni Salerno. Una delega anche per il comando provinciale dei carabinieri che affiancheranno i colleghi della polizia. La decisione di mettere in campo altre forze di polizia giudiziaria nella caccia all'uomo serve a raccogliere in poche settimane elementi di prova forti e concreti a carico di Luca Materazzo. C'è una pista economica dunque che prende corpo, un filone investigativo fatto soprattutto di accertamenti su conti correnti e su questioni patrimoniali. Si parte da una possibilità al momento solo ipotetica, Luca Materazzo potrebbe essere foraggiato da qualcuno che gli sta pagando la latitanza, sembra di capire. Potrebbe esserci in giro uno o più benefattori che gli stanno assicurando il minimo indispensabile per sopravvivere in attesa che l'attenzione scemi nei suoi confronti o che arrivi qualche sviluppo investigativo in grado di scagionarlo. Un buon motivo per mettere in piedi una sorta di network di inquirenti in grado di sfruttare al massimo i talenti presenti sul territorio, polizia, carabinieri e guardia di finanza.